Aaaaaaah! Poi? No! Guai! Dolore! Sofferenza! È solo colpa... vostra! Andiamo amico, datevi un tono. Che cosa è successo? La nave? Sparita! I soldi? Perduti! La moglie? Non l'ho neanche mai avuta, una moglie! Ecco il tizio! Mi ha detto... Oh capitano, sono povero! E io sono generoso! Gli presto denaro! Compra una nave, diventa ricco! Poi vado da lui, gli dico... Oh capitano, sono povero! E non mi vuole nemmeno rendere i soldi! Basta piangere, calmatevi ora! Ci penserò io! Oh, oh, grazie! Ma solo se rinunciate al vino e ritornate in voi! Oh! 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 Basta! 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 Che cosa volevo? La nave è acquistata con la generosità del Capitano De Nures. Non vi servirà più. Ho recuperato la sua nave. Potete usarla. Oh, grazie, grazie! Ora vi proteggerò io. Ripagherete la mia gentilezza lavorando per me. Se non ho altra scelta, accetto. Insomma, sarebbe davvero un onore, mio dolce e caro Angelo. Ehi, signorita! Una parola, signorita. Sì? Per il Capitano Dominguez siete veloci. Il Capitano dice anche che vi arrampicate. E il Capitano afferma anche... Va bene, va bene, basta col Capitano Dominguez. Cosa volete? Gareggiare e battervi in velocità. E cosa vinco se perdete? Se perdo, mi imbarcherò volentieri insieme a voi. Siamo d'accordo. Eh bien, c'est impressionante, n'est-ce pas? Ha ha! Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Qu'est-ce que c'était ? Pavelin, abbiamo ottenuto informazioni sui piani per un nuovo cannone che di certo si rivelerebbe assai utile nella tua lotta contro i pirati Ti rivelerò dove si trovano i progetti, ma il resto dipenderà da te Come certo saprai, i progetti sono sorvegliati e sarà essenziale agire con furtività Fermati su Fermati su La sto perdendo Ehi, ferma Ehi, ferma Ehi, ferma Ehi, ferma